E' evidente, e voglio chiudere su questo, perché come ho detto avremo numerose occasioni di confronto in Parlamento, con grande piacere perché è utile avere questo confronto, non c'è un tema di polemica e di scarica a barile. L'ho sentito più volte, è ricorrente questo tema. Noi non vogliamo fare nessun scarica a barile nei confronti di nessuno, però è altrettanto palese, evidente, chiaro che nessuno può dopo soli cinque mesi pensare di fare lo scarica a barile su questo governo. Questo non sarà in alcun modo consentito perché questo sarebbe prima ridicolo e poi paradossale e quindi da parte nostra non ci può essere in alcun modo un'accettazione di questo tipo di impostazione. Quindi l'augurio e l'auspicio che noi immaginiamo e che noi portiamo a quest'Aula è che si apra un confronto serio nel merito e che su questo confronto ci possa essere la capacità non di critiche di carattere generico, ma di proposte concrete sulle quali poter dare delle risposte.